Amici Trevi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che sarà molto variabile e instabile, soprattutto al centro-nord per la presenza di quella zona di bassa pressione e porterà temporali diffusi anche intensi. A fine giornata si muoverà verso est, per come nuvolosità in effetti per le regioni centro-settentrionali sarà una domenica particolarmente variabile, nuvolosa. Tra poco vi mostrerò anche con acquazzoni e temporali, nuvolosità che però lascia in pace le regioni meridionali. Solo il nord della Sardegna verrà di tanto l'ambito da qualche annuvolamento e poi in parte anche la campagna e il nord della Puglia. Come precipitazioni però diciamo il grosso al centro-nord, con temporali anche di forte intensità, si rischia pure la grandine, soprattutto nelle regioni centrali. Invece diciamo al sud situazione più tranquilla solo in campagna e qualche piovasco. Quindi in definitiva ci attende una domenica molto instabile in tutto il centro-nord e in campagna. Acquazzoni temporali, fenomeni anche di forte intensità, significa il rischio grandine, come vi dicevo soprattutto nelle regioni centrali. L'estremo sud invece ancora fuori dai giochi e con temperature all'estremo sud ancora elevate. Invece al centro-nord netta diminuzione, guardate, valori in alcuni casi non oltre i 25-26 gradi. Con questo è tutto, ma per sapere cosa capiterà dalle vostre parti scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.